Prima di approfondire il complesso mondo della religione dei Celti, ricreiamo molto brevemente il contesto storico. Le origini dei Celti sono probabilmente da ricercare durante l'età del ferro, in Europa centrale, intorno al secondo millennio avanti Cristo. Le prime testimonianze scritte circa i Celti si trovano nelle opere di autori greci e romani, che menzionano popolazioni celtiche nella regione dell'Europa centrale. A partire dall'VIII secolo avanti Cristo, i Celti iniziarono a espandersi nell'Europa occidentale, nell'Europa centrale, e nella penisola iberica. La migrazione celtica portò alla formazione di diverse tribù e gruppi, che avevano in comune l'organizzazione politica, le tradizioni religiose, e la lingua. I Celti migrarono nelle isole britanniche a partire dal V secolo avanti Cristo, influenzando significativamente la cultura della regione. Nel IV secolo avanti Cristo, i Celti espansero le loro conquiste nell'Italia settentrionale, arrivando poi fino a Roma nel 390 avanti Cristo, sotto la guida di Brenno. Nel I secolo avanti Cristo, Giulio Cesare condusse le cosiddette guerre galliche contro le tribù celtiche della Gallia. La sconfitta portò alla conquista romana della regione. L'influenza romana, insieme ad altri fattori, portarono al declino delle culture celtiche nelle regioni conquistate. Tuttavia, alcune comunità celtiche mantennero la loro identità, soprattutto in Irlanda e Scozia. Nella società celtica, un ruolo importante spettava i druidi. La loro storia è avvolta nel mistero a causa della mancanza di fonti scritte dirette, poiché i druidi celtici basavano il loro insegnamento sulla trasmissione orale della conoscenza. Tuttavia, attraverso le testimonianze scritte di autori antichi, di miti celtici e degli studi moderni, possiamo delineare alcuni aspetti della storia dei druidi. I druidi erano sacerdoti, consiglieri, insegnanti, giudici e custodi della tradizione orale. La loro presenza era essenziale per la stabilità sociale e la coesione della comunità. Come custodi della conoscenza, erano responsabili della conservazione di miti, leggi, poemi e delle pratiche rituali. L'educazione dei druidi era rigorosa e richiedeva anni di studio. Si ritiene che l'apprendistato includesse la memorizzazione di poemi epici, la comprensione della natura, la pratica delle arti magiche e l'acquisizione di competenze politiche. La conoscenza veniva trasferita oralmente da maestro a discepolo. I druidi avevano un ruolo centrale nelle cerimonie religiose celtiche. Si riunivano in luoghi sacri, spesso vicino a alberi considerati sacri, come le querce. La religione celtica rifletteva una profonda connessione con la natura. Molti riti erano incentrati sul ciclo naturale delle stagioni, e molte divinità erano associate agli elementi naturali. La spiritualità celtica abbracciava la sacralità della terra, degli alberi, dei fiumi, e delle creature selvatiche. Le principali divinità celtiche erano. Dagda, o il Dagda, è considerato il sovrano supremo degli dèi. La sua maestosità era associata al controllo del ciclo delle stagioni, e al suo influsso sulla prosperità e sulla fertilità della terra. Il Dagda possedeva un'arma magica, un'enorme clava di ferro, che poteva uccidere da un lato, e resuscitare dall'altro. Questa clava rappresentava il potere sovrano del Dagda sul ciclo della vita e della morte. Il Dagda era adorato come dio dell'abbondanza. Il suo calderone magico, era in grado di nutrire chiunque si sedesse al suo tavolo senza mai esaurirsi. Non a caso, oltre al suo potere sovrano, il Dagda è spesso rappresentato come un padre amorevole che si prende cura dei suoi figli. Morrigan, la dea della guerra, dell'amore e della sovranità. Spesso raffigurata come una guerriera, Morrigan incarnava la dualità della vita e della morte. Era invocata per influenzare l'esito delle battaglie. La sua presenza poteva portare vittoria o sconfitta, e i guerrieri spesso cercavano la sua protezione e i suoi favori. Brigid era onorata come la patrona della poesia e dell'ispirazione creativa. La sua presenza era associata alla bellezza delle parole, e alla capacità di esprimere emozioni attraverso la poesia. Era considerata anche una guaritrice, simboleggiando il potere curativo delle piante e delle pratiche mediche. Le sorgenti d'acqua erano spesso legate ai suoi attributi di guaritrice. Il suo culto era anche associato agli artigiani, agli artisti, e a coloro che cercavano ispirazione nella creazione di opere d'arte. L'ag, il luminoso, è spesso equiparato al sole, simboleggiando la luce che dissipa le tenebre e promuove la crescita. L'ag è anche noto come un maestro artigiano, abile in tutte le arti e mestieri. È spesso descritto come un costruttore, un fabbro, e un esperto nell'uso di armi. Cernunnos, conosciuto come il signore delle bestie. Questa divinità è spesso rappresentata con corna di cervo, simbolo della sua connessione con la natura, con la fertilità e con il mondo animale. Cernunnos è associato alla fertilità e all'abbondanza. La sua presenza è vista come un augurio di prosperità nelle battute di caccia. È rappresentato seduto con le corna di cervo, e circondato da animali come serpenti, lupi e tori. La religione celtica è ricca di simboli che riflettono la connessione dei celti con la natura, la spiritualità e il ciclo della vita. Ecco alcuni dei simboli più significativi. Triquetra. La triquetra è un antico simbolo celtico composto da tre archi intrecciati. Si tratta di uno dei diversi simboli celtici che rappresentano la triplicità dell'universo. Per i celti, infatti, tutte le cose importanti erano rappresentabili secondo il principio della triplicità. Vita, morte, rinascita. Passato, presente, futuro. Terra, cielo, mare. Mente, corpo, anima. La triquetra era associata ad una divinità femminile, la grande madre, identificata nella luna e nelle sue tre fasi. Le tre braccia rappresentavano la fanciulla, la donna e l'anziana. Triskelion. Il triskelion è un simbolo composto da tre spirali che si irradiano dal centro. Rappresenta il movimento, il cambiamento, l'evoluzione spirituale, la determinazione a migliorarsi e a superare le avversità incontrate nella vita. Croce celtica. La croce celtica è una croce circolare con bracci che si estendono oltre il cerchio. Simboleggia l'unione tra il sacro e il profano, oltre a rappresentare il ciclo di vita, morte e rinascita. Albero della vita. L'albero della vita è un simbolo comune in molte tradizioni, inclusa quella celtica. Rappresenta la connessione tra cielo, terra e mondo sotterraneo, oltre a simboleggiare la crescita e la rinascita. Le qualità associate a questo simbolo sono la saggezza, la forza e la longevità. Spirale celtica. La spirale è un motivo ricorrente nella cultura celtica, con varie interpretazioni. Rappresenta l'estensione, il ciclo della vita, l'eternità, e la connessione tra il mondo fisico e spirituale. I celti celebravano una serie di feste legate al ciclo dell'anno e alle stagioni agricole. Alcune delle festività più importanti erano. Sawin. Celebrata alla fine di ottobre, segnava la fine dell'anno e l'inizio del periodo oscuro. È considerata l'antesignana dell'attuale Halloween. Imbolc. Celebrata a inizio febbraio, segnava il risveglio della natura, ed era dedicata alla dea Brigid. Beltane. Festeggiata a inizio maggio, era associata alla fertilità, e all'inizio della stagione calda. Lubna Sad. Celebrata a inizio agosto, era legata al raccolto e alle attività agricole. Sawin. Sawin è una festività celtica che segna la fine dell'anno e l'inizio del nuovo. Celebrata il 31 ottobre, Sawin è una delle quattro principali festività nel calendario celtico. È spesso considerata il capodanno celtico, e rappresenta il momento in cui il velo tra il mondo dei vivi e dei morti si assottiglia, consentendo agli spiriti di attraversarlo. Il termine Sawin deriva dal gaelico e significa fine dell'estate. Questa festività era un momento cruciale per i celti, che riconoscevano il legame profondo tra la fine del ciclo agricolo, e il mistero della morte. Sawin era un periodo in cui si onoravano i defunti. I celti credevano che durante questa festa, gli spiriti dei morti potessero tornare sulla terra. Le famiglie lasciavano cibo fuori dalle porte, come dono per gli spiriti, e accendevano fuochi. Si credeva che durante Sawin il velo sottile tra i mondi, permettesse anche la divinazione e le visioni. Le persone praticavano antichi rituali per ottenere profezie sul futuro, e connettersi con il mondo spirituale. L'usanza di indossare costumi e maschere durante l'odierna festa di Halloween, ha radici in Sawin. Si credeva che il travestimento confondesse gli spiriti malvagi, o li dissuadesse dal danneggiare coloro che celebravano la festa. In molte comunità celtiche, Sawin era segnato da fuochi sacri. La gente si riuniva attorno a questi fuochi per onorare i morti e scambiarsi storie e canti. Sawin rappresenta il concetto celtico del ciclo eterno di vita, morte e rinascita. Mentre la terra si prepara al riposo invernale, si riconosce anche la promessa di un nuovo inizio nella primavera successiva. Imbolc. Proprio nel buio dell'inverno, posizionato tra Iule, il solstizio d'inverno, e Ostara, l'equinozio di primavera, i Celti propiziavano il ritorno della bella stagione, attraverso Imbolc, con l'accensione di falò e candele. I rituali iniziavano dalla sera dal 31 gennaio fino al tramonto del primo febbraio, poiché il nuovo giorno aveva inizio a partire non dalla mezzanotte, ma al calare del sole. Questa festività è dedicata principalmente alla dea Brigid. Imbolc era una festa legata alle tradizioni agricole e al risveglio della natura dopo il periodo invernale. Il suo nome deriva dal gaelico Oymelc, che significa latte di pecora, indicando la stagione in cui nascevano gli agnellini, e le pecore iniziavano ad allattarli. La festività simboleggia quindi la transizione dal buio alla luce, sia fisicamente che spiritualmente. È il momento in cui la luce del sole inizia a prevalere sulle tenebre invernali, annunciando la fine dell'inverno e il ritorno della vita. Brigid è la figura centrale di Imbolc. Nella tradizione celtica, è vista come una divinità dalle molteplici sfaccettature. Dea del fuoco, protettrice delle arti, guaritrice e custode del bestiame. Imbolc onora anche la sua natura d'idea della guarigione, della luce e della fertilità. Imbolc è spesso celebrata accendendo candele e fuochi, per rappresentare la luce che cresce. Il fuoco simboleggia la vittoria della luce sulle tenebre, e la rinascita della natura. Un antico rito di Imbolc sta nella creazione di particolari croci. Realizzate intrecciando canne o paglia, e dedicate a Brigid, per ottenere la sua benedizione e protezione. Imbolc è anche associata alla purificazione. Le persone si impegnano nella pulizia delle proprie case, e nella rimozione di ciò che è vecchio, creando lo spazio per il nuovo, e accogliendo la luce primaverile. Beltane Beltane è celebrata tra il tramonto del 30 aprile e il tramonto del primo maggio. Questa festività segna il picco della primavera e l'inizio dell'estate. Beltane è una festa dedicata alla gioia, alla fertilità e alla celebrazione della vita. Il nome Beltane deriva dalla parola gaelica bealten e significa fuoco brillante. La festività ha origini antiche, e si collega alle pratiche agricole, celebrando la fertilità del suolo, e il rigoglio della natura. Una delle caratteristiche di Beltane è l'accensione di fuochi sacri. Le comunità celtiche antiche si riunivano intorno a enormi falò per onorare il sole, chiedere la fertilità, e proteggere il bestiame durante la stagione estiva. Un altro elemento interessante di Beltane è la Maple Dance. Una lunga asta, spesso decorata con fiori e nastri colorati, viene eretta, e le persone ballano intorno ad essa, intrecciando nastri per creare motivi ornamentali. Questo antico rituale simboleggia l'unione dell'energia maschile e femminile, celebrando la fertilità della terra. Lugnazad, la festa celtica dei raccolti. Lugnazad, conosciuta anche come Lammas, è celebrata nei primi giorni di agosto. Questa festività segna il momento dei primi raccolti. Il nome Lugnazad deriva dal dio celtico Lag, venerato durante questa festività. Questo periodo è dedicato alla celebrazione dei raccolti estivi e al ringraziamento per il cibo che sosterrà le comunità nei mesi successivi. Lugnazad coinvolgeva anticamente riti agricoli per garantire una buona resa dei raccolti. La gente faceva offerte di grano e altri prodotti alimentari al dio Lag, sperando in un raccolto abbondante. Il pane, simbolo della prosperità, era spesso preparato in forme elaborate. La festività era anche caratterizzata da giochi e competizioni in onore di Lag. Si svolgevano gare, tornei e sfide artistiche. Alcune comunità celtiche costruivano effigi rappresentanti il dio Lag. Queste effigi venivano poi offerte al dio o bruciate, come parte di rituali sacri. Lugnazad era anche un momento di condivisione del cibo. Le comunità si riunivano per pasti comuni, spesso preparando pietanze a base di grano e frutti appena raccolti.